Grazie Mirko, grazie a Fussi Diversi. Vi leggerò alcune poesie tratte dall'ultimo libro in cui ci sono poesie mie e immagini di Guido Sartorelli. La M è più presente, la N è già trasparente, votata a trascolorare in lontananza, ad annullarsi in N di niente. Questa notte un sogno affollato, c'erano quasi tutti, tutti affrettavi con una valigia. Allora stai bene, ho pensato. Correvi per poter parlare con me durante il viaggio. Io correvo per raggiungerti prima della fine del sogno. Ti ho fiancato dove la strada curvava, lì siamo spariti. Era un calmo pomeriggio e il suo lucore restava sospeso sulle rotte della casa d'acqua senza ormeggio e motore, sul prato millenario e il suo torpore. Dormo sul bagaglio a mano, nella sala di transito, di aeroporti uguali, insieme agli altri, tutti li ricordo, li ho dimenticati, assonnata, senza difese, felice di tornare. Ora vi leggo un inedito. Tutto il campo sarà rilevato, così potremo parlarci sempre. Le culture torneranno selvatiche, non potremo farci niente. Grazie.